e riviusi a sml ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare il super marshmallow halloween e cominciamo con i cibi halloween ragazzi siete pronti a mangiare i marshmallow insieme a me quindi partiamo subito niente aspetta che prendo la mia amica genoveffa è l'italiano ecco qua come sono carini ragazzi sono proprio carini ah si carini li metto in piedi così guardate quanto sono carini ragazzi è super marshmallow se sentite un crocchiare è il gatto che sta mangiando le crocchette e lui viene sempre a mangiare ogni volta che io faccio un video mi sembrerà strano però è così e quindi ogni volta lui si mette a mangiare ogni volta che io sto facendo sto registrando un video e lo fa apposta vero Zeus che lo fai apposta si lo fa apposta oh signore ecco qua ha finito di mangiare se Dio vuole ecco e quindi adesso noi mangiamo i super marshmallow ragazzi siete pronti a mangiare marshmallow con me eh pronti marshmallow 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 bene ragazzi buon ascolto e Sì, è molto bello. bellissima guardate quanto è carino questo marshmallow è carino vero? è delizioso sempre allo cittadino bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo video vi do appuntamento alla prossima tanti bacioni e ciao